Carlo Veneziale, candidato consigliere comunale del PD, cosa ne pensa della recente visita degli ispettori ministeriali al Comune di Sernia in materia di acquisizione di documenti sul bilancio? C'è questa notizia recente, ormai di dominio pubblico, c'è un'ispezione disposta dal Ministero delle Finanze al fine di verificare eventuali irregolarità nella stesura del bilancio comunale. È evidente che restiamo in attesa delle risultanze di questa ispezione, ma resta il fatto che c'è stato motivo di indagare sul bilancio. E se vi è stato motivo di indagare sul bilancio, tornano ad essere di stretta attualità tutti i temi che il PD in Consiglio Comunale negli ultimi cinque anni ha sollevato sulle evidenti irregolarità riscontrate nel corso delle varie approvazioni del bilancio. Ci sono interventi della Corte dei Conti in questo senso che segnalano gravi irregolarità, attendiamo l'esito dell'ispezione amministrativa e comunque rimaniamo, indipendentemente da quest'ultima, della nostra idea. E cioè che nel corso degli anni, molto probabilmente, in tema di bilancio si è fatta un'operazione che probabilmente andava fatta meglio. Qual è la sua proposta in tema di conti pubblici, se sarà il centro-sinistra ad amministrare il Comune di Sergi? Il momento è difficile, il federalismo municipale, gli interventi del Governo centrale impongono alle amministrazioni di essere oculate e di saper far di conto. C'è qualcosa che si può fare. Uno dei temi di strettissima attualità è quello legato al pagamento da parte della pubblica amministrazione di beni e servizi di cui quest'ultima ho usufruito nei confronti dei propri fornitori. Esistono esempi virtuosi, senza andare lontano, basta pensare al vicino Comune Capoluogo di Regione, quindi a Campobasso, dove con una stretta sinergia tra l'amministrazione ed il mercato bancario si riesce ad anticipare alle imprese che nei confronti delle amministrazioni pubbliche hanno crediti una somma di danaro che consenta loro di trovare nuovo ossigeno e nuova spinta propulsiva per l'attività e soprattutto nuova linfa economica. Questa potrebbe essere una strada da percorrere, è un'idea che secondo me andrà percorsa, fermo restando che d'oggi in poi non si dovrà più spendere senza avere in cassa già i soldi per poter onorare i propri impegni. In questi giorni il centro-destra ha rigettato fortemente le accuse di una città in balia del degrado e di una città insicura. Nel suo programma si riserva grande attenzione al tema della sicurezza. Ci vuol dire le sue idee? C'è un tema che è quello legato alla sicurezza diurna e notturna della città. La città soprattutto nelle ore notturne e soprattutto nella sua parte antica che vede presenti diversi locali pubblici è letteralmente devastata da persone che non hanno a cuore le testimonianze storiche che i nostri genitori ci hanno lasciato. È di stretta attualità il tema di videocontrollare e videosorvegliare questi luoghi e riteniamo che questa sia una scelta opportuna. Tuttavia è una scelta di condingenza, è una scelta legata al momento. La mia idea è quella di, oltre ad utilizzare questi strumenti, di avviare un piano di comunicazione, un piano di sensibilizzazione con le scuole e con gli altri istituti didattici affinché i nostri bambini, i nostri ragazzi imparino ad amare la propria città. Imparino cioè a rispettare il patrimonio di tutti. Attraverso questo percorso di sensibilizzazione noi oggi siamo costretti e metteremo la videosorveglianza. Ma l'idea non è quella di metterla oggi, che è una necessità. L'idea è quella di toglierla fra 15 anni quando avremo insegnato ai nostri bimbi che la nostra città va rispettata ed amata.